Il Festival del Cinema di Roma 2016 di Roma Sta arrivando Tom Hanks Ci siamo? Eccolo, piano piano Eccolo, ecco l'auto Eccolo l'auto Eccolo lì No, sta davanti Eccolo Eccolo qua Tom 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 Dom, vieni dal Prato di Fernando! Dom! 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 Che cosa viene qua? Non viene... Non ci viene da noi, eh. Dom! Tom, 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 Tom. No, ragazzi. Eh no, questo è un gioco di una palla. No. Eh no, no. Tom, Tom, Tom. Ragazzi, vai per parte l'area. Non è giusto, ragazzi. Non si può fare le panni. No, non si può fare le panni. grazie